Due partite, un solo punto. È un avvio di campionato di eccellenza tutt'altro che esaltante. Quello del Biceglie, domenica scorsa, nella stracittadina contro l'Unione Calcio, giocata sul neutro di San Ferdinando, i Nerazzurri hanno evitato la sconfitta dopo quale ha rimediato l'esordio sul campo del Manduria, proprio a novantesimo. L'autoretta di Zinetti ha annullato virtualmente il momentaneo vantaggio degli avversari realizzato da Amoroso, consentendo così agli uomini di Giuseppe Scaringella di cancellare al secondo tentativo lo zero in classifica. È vero che l'abbiamo riacciuffato a 10 minuti della fine più il recupero, questo pareggio, però potevamo sicuramente realizzarlo prima. Purtroppo siamo un po' mancati nell'approccio oggi, nei primi 15-20 minuti. Adesso le motivazioni le andrò a ricercare domani con i ragazzi. Probabilmente abbiamo anche un po' sentito inconsciamente questa gara importante, questa stracidadina, dove tutti ci tenevamo a fare bella figura e a cercare di regalare i primi tre punti ai nostri tifosi. Quindi tra i primi 15-20 minuti abbiamo purtroppo subito il gol, poi abbiamo pian pianino preso il comando del gioco fino alla loro espulsione, dopodiché io credo nel secondo tempo non c'è stata partita, abbiamo comandato totalmente la gara, l'Unione Calcio ha dovuto abbassare il proprio baricentro, noi abbiamo cercato di creare, sicuramente potevamo chiudere e concludere un po' di più al retico che azione da gol. Però insomma alla fine la cosa positiva è stata questa reazione che la squadra ha avuto rispetto a domenica scorsa, quindi vuol dire che siamo sulla strada giusta. Il mercato in entrata ha portato in dotte ieri come rinforzo in attacco a Loris Palazzo. Gradito ritorno al Biceglie il suo dopo l'esperienza nella passata stagione a Bitonto. Non sono da escludere ulteriori innesti in altri reparti. I Nerazzurri di sicuro necessitano di una scossa in campionato, ci proveranno domenica in trasferta contro il Novoli, prima però c'è un altro importantissimo impegno ufficiale sempre in campo avverso, gli uomini di Giuseppe Scaringella infatti sfidano domani sera il Barletta nella gara d'andata del primo turno di Coppa Italia di Lettanti, fischio d'inizio al Cosimo Puttilli previsto alle ore 20, la partita di ritorno invece è fissata per il 19 settembre. Il tecnico del Biceglie è chiamato a gestire le energie fisiche e mentali dei suoi in virtù del trittico di appuntamenti ufficiali in otto giorni che si concluderà domenica prossima in Salento. Avevamo già purtroppo messo in preventivo che questo inizio non sarebbe stato facile per noi per un dispendio energetico, fisico e mentale perché risaputi insomma che siamo partiti tardi, abbiamo sulle gambe una ventina di giorni di allenamento, però è chiaro siamo pronti, andiamo con molta fiducia, andiamo prima a Barletta cercando di ottenere il massimo e di fare la nostra grande prestazione.